Ciao, sono Lorenzo Cicetti e sono appena tornato dal seminario Networker in un giorno con Fabrizio Mellone. Posso dirti che questo seminario mi ha completamente sconvolto positivamente, mi ha dato veramente una grande energia e una grande consapevolezza in me stesso e nelle mie possibilità. Non solo io, anche altre 50 persone che erano presenti sono rimaste totalmente esterefatte. Sono una soddisfazione incredibile, hanno trovato delle emozioni incredibili. E per questo io veramente mi sento di consigliare, straconsigliare, portare tutte le persone che conosco, mia moglie, i miei genitori, tutte le persone care a me, quindi anche tu che sei, che stai guardando questo video, che stai ricevendo quindi le mie email, per me sei una persona importante. Sia che vuoi uscire nel network marketing che nella vita in generale tu devi venire. Soprattutto se devi, se vuoi alla grande riuscire, vuoi avere delle possibilità di riuscita nel network marketing, non puoi mancare. Ci sono diverse date in Italia, inserisci nome, email in questa pagina. Do il dettaglio delle date a qualcosa a cui assolutamente sento di consigliarlo a ogni persona. Le persone che erano lì la prossima volta si portano la moglie, si portano i figli, perché hanno capito veramente che cosa significa crescere personalmente, perché è necessario crescere personalmente per fare esplodere l'attività. C'è una frase che veramente mi ha fatto pensare e mi ha fatto accendere la lampadina. Questa frase è Non usare le persone per costruire l'attività, ma usa l'attività per costruire le persone. Perché se tutte le persone che tu porti dentro nel tuo gruppo sono persone che crescono, sono persone che producono, sono persone che sono più sicure di te, in questo modo tu avrai veramente un qualcosa di solido, di stabile e di crescente nel tempo. Ti aspetto in qualche data d'Italia, ci incontreremo e ti farà veramente piacere conoscerti e stringerti la mano. Inserisci nome e email per ricevere tutti i dettagli, se vuoi è talmente importante per me che ti contatto anche personalmente. Ciao e ci sentiamo presto. Ciao e a presto.